L'associazione Le Tartarughe e la Galleria d'Arte SR hanno organizzato la seconda edizione di C'era una volta l'Ottobrata Romana. La manifestazione si è sviluppata in quattro giornate, offrendo al territorio un piacevole connubio tra i vari linguaggi espressivi dell'arte, pittura, musica, canto, poesia e street art. I primi due giorni hanno avuto come location la Galleria SR presso il porto turistico. Il gruppo Le Maghe, con i canti popolari caratteristici delle ottobrate romane, ha alietato il vernissage della mostra di Laila Scorcelletti, dal titolo Vinarelli di Laila, 16 opere realizzate con penna a biro nera, vino rosso e caffè. Sono state proposte inoltre poesie a tema, lette dagli stessi compositori Sandro Angelucci, Andrea Bulfone, Paolo Buzzacconi, Fiorella Cappelli, Silvia Cozzi, Loredana D'Alfonso e Maria Rizzi. Nelle due giornate successive l'evento si è spostato nell'entroterra ed in particolare nel sottopasso tra San Francesco e San Giorgio di Acilia. Per l'occasione è stata inaugurata l'opera di street art dal titolo Cantico del Lupo e del Cielo, ispirato alla figura di Francesco e al suo Cantico delle Creature. Il progetto, promosso e finanziato dall'assessorato alla cultura del decimo municipio di Roma, è stato realizzato dal collettivo Subworld. Alle due giornate hanno preso parte anche altri artisti del territorio che hanno collocato un loro quadro su cavalletto per inaugurare lo spazio del sottopasso come galleria suburbana.